C'è un personaggio, un caro amico chitarrista, chitarrista che io stimo moltissimo e che appena ho saputo che si trovava qui tra di voi in mezzo al pubblico ho pensato che sarebbe stato bello poter condividere insieme magari un brano e allora abbiamo scelto di eseguire per voi un brano che è su un territorio direi comune lui è un jazzista puro, io sono una sorta di chitarrista un pochettino più ibrido però il terreno nel quale ci confrontiamo e nel quale stasera riusciamo a condividere insieme a voi un brano è il terreno del latin jazz il latin jazz è questa forma d'arte che miscela appunto l'improvvisazione del jazz con i ritmi latini, i ritmi centroamericani e ovviamente sudamericani per cui ho pensato di interpretare insieme a lui un classico, uno standard scritto dal grande pianista Ciccoria è un brano che si intitola Spain io avrei il piacere se lui è qua, è già in zona ed è vicino di invitare sul palcoscenico il chitarrista Tommaso Mirabella grazie a tutti 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 grazie a tutti